Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Your Self Ispirazione. Oggi realizzeremo una golosissima ricetta con il gelato alla stracciatella e ovviamente i nostri amatissimi Oreo. È una ricetta molto estiva che però mi piace davvero tantissimo, quindi oggi realizzeremo un milkshake, avremo bisogno di due palline di gelato, circa 200 millilitri di latte, quattro biscotti Oreo e un po' di panna per guarnire il tutto. Ovviamente poi vi serviranno due cannucce e una bella tazza. Come prima cosa andiamo ad aggiungere il latte al nostro gelato. Dopodiché andiamo a prendere tre dei nostri biscotti e li spezzettiamo unendoli al gelato e al latte. Uno lo lasciamo per la decorazione finale. Ecco qui. Mischiamo tutto con il mini peamer. Una volta che il composto è pronto lo andiamo a versare nella nostra tazza. Ecco qui. Poi agitiamo bene la panna e la mettiamo sopra il nostro golosissimo milkshake e come ultimo passo aggiungiamo il nostro ultimo Oreo rimasto e ovviamente anche le due cannucce. Come potete vedere è una ricetta davvero semplicissima e golosissima. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace. Non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi e per scoprire sempre nuovi video e anche molto originali. E naturalmente non mi resta altro che dirvi che ci vediamo sempre qui su Do It Self Ispirazione. Ciao!